Ciao, sono qui a Granada all'interno di uno dei bellissimi palazzi dell'Alhambra. E questo palazzo è veramente molto molto bello. Appena l'ho visto, e quale amante anche della storia dell'arte, ho sentito subito una grande armonia. Una grande armonia proprio portata da questa bellissima architettura. Ebbene, questo mi ha suggerito l'armonia, l'armonia che noi possiamo provare dentro di noi, l'armonia interiore che noi possiamo vivere in ogni istante della nostra vita. Questo è molto importante perché ci permette veramente di vivere ad un altro livello, ad un livello che normalmente le persone non riescono a toccare, purtroppo non riescono ad accedere. E noi con la Divine Connection lo stiamo provando, lo stiamo vivendo. E non so se hai visto la diretta di ieri sera, dove finalmente abbiamo aperto la possibilità di iscriversi al Divine Connection Live che faremo a Rimini alla fine di novembre, il 30 novembre, il primo dicembre. Ebbene, se tu vuoi provare questa armonia nella tua vita, in particolar modo nelle relazioni, e le relazioni come abbiamo visto sono uno degli ambiti più importanti della nostra vita perché noi siamo esseri relazionali, ci rapportiamo con gli altri in ogni istante e tutte le ferite che noi abbiamo subito, le belle esperienze le abbiamo vissuto proprio nel rapportarci con gli altri e con noi stessi. Quindi, bene, vieni con noi, vieni con noi a Rimini e datti questa grandissima opportunità di risvegliare questa bellissima armonia nella tua vita. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!